Buonasera, qui è Teleschianto Castelvecchio, una radioterapia o piano tempo. Signor, abbiamo qui il banditore, cioè quello che è ufficiale addirittura, il signor, posso sapere il suo nome? Taffazio, Cominato Taffazio, più conosciuto con il sopranome che con il vero nome. Come vanno? C'è la gente che compra questi bichetti? Come no, anche quest'anno un buon numero di partecipanti ha partecipato. Senta, senta, me lo può dare a me una dritta. Quando peserà il vitello? A me, a me. Non lo diceva nessuno. Tanto qui è Teleschianto Castelvecchio, non lo dice a nessuno. Mi dica quanto... Ah, e questo io non lo dico al più a nessuno. Questo non lo dico al più a nessuno. Mi ha dato una dritta e se non vincerò il vitello, vincerò un agnello. Eh sì, è proprio. La ringrazio, la ringrazio. Io le auguro, insomma, lei praticamente da diversi anni che fa questo lavoro. Sì, fin dal primo anno in cui questa festa si organizzò, mi individuarono quale... il banditore ufficiale, il banditore ufficiale, date le mie note, vocalità, potenzialità. Anche con la presenza. Anche con la presenza. Va bene, io le auguro buona fortuna e di fare il doppio dell'incasso dell'anno scorso. Molto dupido. Va bene, qui ti ha le schiarme che dà la linea... Allora, non prendo che è anche più oggi. Grazie.